Allora uno è quello che ci ha portato ad un utilizzo innovativo delle risorse messe a disposizione dell'Europa in quanto abbiamo utilizzato due diversi progetti e quindi due diverse linee di finanziamento e questo secondo me deve caratterizzare anche l'utilizzo delle risorse della programmazione 2014-2020. Il secondo punto è che ci siamo connessi con i percorsi dei corridoi strategici definiti e delineati dall'Unione Europea. Il terzo punto è che con operazioni di questo genere si realizzano sia obiettivi connessi alle politiche della mobilità sostenibile ma anche chiari ed evidenti interventi di riqualificazione urbana che migliorano non solo il decoro della città ma anche la qualità della vita. Ma per la Puglia una vittoria storica dopo tante battaglie tenendo il fiato sul collo del ministero di Palazzo Chigi siamo riusciti oggi a portare a casa l'inizio dei lavori del raddoppio della termolilesina, quel terribile tappo rappresentato dall'unico binario che impedisce alla dorsale adriatica di poter essere una linea ferroviaria moderna e capace veramente di collegare il sud e il nord di questa parte dell'Italia. Quindi 106 milioni di euro sono liberati per far partire il primo lotto. Accanto a questo abbiamo oggi anche dato una svolta a un'attesa grande della città di Bari cioè il collegamento, i 10 chilometri e mezzo di collegamento ferroviario tra Bari e Torriammare. Cosa intende per svolta? Comincia a essere cantierizzato tutto quello che riguarda sia la dimensione strategica del nodo ferroviario di Bari cioè l'abbattimento di tutti i punti di barriera, la ricucitura di tutte le fratture, il miglioramento dei collegamenti e poi soprattutto la termolilesina. Per me è veramente un sogno perché non ci credevo più invece ce l'abbiamo fatta. Per il nodo ferroviario quanto è sottostanziato? Ma per il nodo ferroviario di Bari è un'opera diciamo che ha un limite di spesa di 391 milioni di euro che è integralmente finanziato dal contratto di programma di Rete Ferrovie Italiane.